Donne intente a gettare cumuli di rifiuti indifferenziati, addirittura avvalendosi di carrelli del supermercato. Sono le immagini impietose realizzate con una telecamera mobile della Polizia Municipale che immortalano cittadini, in questo caso cittadine, mentre continuano a sporcare la città formando delle microdiscariche e fregandosene delle regole sulla raccolta differenziata e sul corretto conferimento dei rifiuti. Qui ci troviamo in via Circonvallazione, non lontano dall'area mercatale. Una donna svuota un carrello colmo di sacchi dell'immondizia, abbandonandoli a ridosso di un muro. Mentre qui siamo dall'altra parte della città, in via Etna, altre due donne sono state immortalate nel frangente in cui depositavano sul marciapiede numerosi sacchetti di rifiuti che avevano portato sul posto a bordo della propria auto. La raccolta differenziata, che ha registrato nel territorio ripostese una performance positiva, continua ad essere vanificata dall'inciviltà di taluni cittadini che pregiudicano gli sforzi fin qui profusi, afferma con amarezza il sindaco Enzo Caragliano, commentando l'esito di un'intensa attività di controllo del territorio affidata ad una task force che, attraverso l'impiego di telecamere mobili, come dicevamo, ha consentito di immortalare alcuni cittadini mentre depositavano illegalmente quantità smisurate di rifiuti ingombranti su marciapiedi e strade, deturpando il decoro cittadino. Quotidianamente sono decine le sanzioni contestate alle persone colte in flagranza mentre scaricano i rifiuti. Un'attività di monitoraggio che vede impegnati agenti di polizia municipale e personale della ditta che ha in appalto il servizio di igiene ambientale. Il sindaco Enzo Caragliano, che segue da vicino l'attività di controllo, non nasconde il proprio disappunto. Si tratta di azioni di inciviltà inqualificabili, dice il sindaco, che attraverso i quotidiani controlli intendiamo contrastare con la massima determinazione. Non consentiremo a nessuno che la città venga deturpata e offesa nel suo decoro. Dai tanti cittadini che collaborano fattivamente alla raccolta differenziata, attendiamo la massima collaborazione.